il conto alla rovescia è la mano recuperata però già dalla formazione di Cilli ancora il numero 13 Ricciardi che va al caletto sorpasso dunque della Tiber eccolo qua Ricciardi in possesso del pallone prova ad andare ancora lui alza di nuovo la parabola però questa volta ha fischiato l'arbitro in possesso è per la Tiber che prova ad andare lo scarico per Padovani piazza la tripla piazza la tripla tra le due formazioni ora Morris che prova a servire e la numero 7 Ruagani poi Bezzi Ricciardi, Campogiani ancora per poco non riusciva a recuperare la palla da Stemmar balla a terra da casa sua dal sasso va a pescare il jolly dal sasso rappresentano sia una cosa importante per l'attacco ma anche la possibilità per la difesa di prendere qualche punto intanto la partita si conclude sul punteggio di 79 a 61 grandissima Tiber gestistica un pochino sotto tono ma stasera la tipa è veramente veritata ma anche la parte di chiama Tiber per la prima parte di noi è veramente veritata che ci sono che ci sono